Altro brutto incidente nella giornata di sabato 11 novembre all'incrocio con i fratelli Berra a Dozegna, ad essere coinvolti due furgoni, uno dei quali si è ribaltato sul prato che costeggia la carreggiata, e una Volkswagen Golf con a bordo una coppia residente a Cornier. La passeggera, che si trovava sulla vettura, è stata stata dai vigili del fuoco e affidata insieme all'uomo alle cure del 118 e poi trasportata in ospedale di Ivrea. Non sono in pericolo di vita, illesi i conducenti dei furgoni. Il traffico veicolare è stato temporaneamente bloccato per permettere ai soccorsi di operare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, la Croce Bianca del Canavese, la Croce Rossa di Castellamonte, la Croce Rossa di San Giorgio e i carabinieri di Livarolo per gli accertamenti del caso. La Croce Bianca del Canavese è sostanziale di cavolo euma faccia di sottolineare i due di giro。 Grazie a tutti.